A fine dei primi minuti si è capito, si è visto che oggi non eravate voi. Mi avrebbe da dire troppo brutti per essere veri, ma oggi siete stati veramente brutti. Oggi non c'è nulla da dire, oggi non siamo stati noi stessi, ci servirà da lezione per la prossima partita. Si è capito dai primi minuti che noi eravamo noi. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire dalla prossima. Una vicenda che non è mai riuscito a reagire, è tornato dal gol al 25esimo, avrei potuto trovarlo molto prima. C'era anche il tempo per dire che è scampato pericolo, abbiamo iniziato male, ma la straziamo, la raddrizziamo. Invece niente da fare, non ci siete mai entrati in partita dal primo al novantesimo. È vero, non siamo mai entrati in partita, abbiamo iniziato a giocare dopo il gol. Sono stati bravi anche loro perché hanno fatto una gran prestazione, ci hanno messo in difficoltà venendoci a pressare. Hanno avuto fame, più fame di noi. Non dobbiamo commettere questi errori, dobbiamo partire subito forti dall'inizio perché come abbiamo visto in ogni partita è dura, è dura. Se non metti la cattiveria e la voglia di vincere diventa dura ogni partita. Ripeto, ci servirà da lezione questa prestazione e basta. Ve lo vediamo alla prossima. Una partita che si è sviluppata un po' come ci si aspettava perché la Tarnana vista a Crotone al primo tempo ha giocato una grande partita. Poi calcio è strano, pali, mischie, poi ha vinto il Crotone. Ma la Tarnana aveva giocato molto bene, quindi lo sapevate che avreste trovato questa Tarnana. Sì, noi sapevamo che abbiamo visto la partita con il Crotone. Non meritavano assolutamente di perdere 3-0, loro stavano facendo prestazioni importanti però raccoglievano poco. Oggi hanno continuato la prestazione di Crotone e hanno raccolto. Noi oggi non eravamo in campo, siamo fatti prendere un po' dalla loro aggressività e l'abbiamo un po' subito. Al di là dell'approccio alla partita, c'erano anche tante assenze. Secondo te quanto hanno pesato? Noi a fine siamo una cosa completa, non dobbiamo pensare alle assenze, perché la società ha lavorato bene in quell'aspetto. Sappiamo che ognuno di noi è importante, quando scende in campo sa quello che deve fare. Poi le assenze ci stanno, ma come ce l'hanno tutti, non dobbiamo pensare a questi... Tu stessi hai giocato un po', non nel tuo ruolo naturale diciamo, no? Sì, sì, ero fuori ruolo, però ripeto, noi sappiamo quando andiamo in campo, sappiamo quello che dobbiamo fare. Oggi eravamo un po' confusi, dai. Un'ultima cosa, ancora un gol su una seconda palla, cioè palla dentro e le marcature ci sono, palla fuori, gli avversari la mettono in mezzo come è normale che sia, ancora uomo libero. Non è la prima volta che accade, ancora il solito errore e adesso comincia a diventare una piaga, un vizio che costa molto caro. Sì, non era il primo gol che abbiamo subito in questa maniera, su calcio piazzato, poi rispinta, poi rimettere dentro, gol. Dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare, abbiamo tanto da migliorare, ripeto, testa bassa, perché oggi veramente abbiamo meritato di perdere. Basta, andiamo a lavorare, ripeto, a pensare alla prossima partita. Sampirisi, ce la racconti la storia per cui per un attimo non sei stato rosso-verde l'anno scorso? Ma no, sono state un po' una serie di combinazioni di mercato che non sono andate a buon fine, c'è stato un po' di fraintendimenti, ecco, e all'ultimo minuto non si è fatto più niente. Tutto qua, su una vicenda... Poi ci ha detto che non è stato depositato in tempo questo contratto, è la realtà? È vero, è vero, non è stato depositato in tempo perché fin fine, ripeto, c'erano delle cose di mercato che andavano messe a posto, però non sono andate a buon fine. Sarà per un'altra volta, dai, buca al lupo. Prepi, grazie. Stefano Giacomelli, una partita no, quella del Vicenza, questa già liberati. Hai detto proprio bene, penso che sia stata una partita brutta dal primo al novantesimo. Abbiamo sbagliato tutto, noi sappiamo che siamo una squadra che sa giocare a calcio, che deve giocare a calcio, l'abbiamo dimostrato in tutte le partite, dalla prima a questa di oggi. Quindi oggi non eravamo noi, abbiamo sbagliato dal primo minuto, appena che ci andavano un piccolo pressing andavamo in difficoltà. Diciamo che è una partita da dimenticare, da archiviare, sappiamo che siamo un'altra squadra, quindi pensiamo a giovedì adesso che abbiamo una partita importante in Coppa Italia. La cosa strana è che voi in trasferta avevate un rendimento straordinario, la Ternana invece al contrario, ha liberati, aveva un rendimento molto basso, invece si sono rovesciate un po' le situazioni oggi. Il fatto ha dimostrato la Ternana oggi di avere soprattutto più fame di noi, che penso che sia un concetto che nel calcio non deve mai mancare. L'ha dimostrato dal primo al novantesimo, ha dimostrato che voleva vincere a tutti i costi, noi arrivavamo sempre secondi sotto delle palle, quindi penso che è inutile parlare di tattiche, oggi non ci siamo stati, abbiamo sbagliato partita, sappiamo ovviamente come abbiamo dimostrato in altre partite, che a calcio ci sappiamo giocare, che abbiamo messo in difficoltà tante squadre, quindi faccio complimenti alla Ternana e noi dobbiamo ricominciare a macinare il gioco come abbiamo sempre fatto. Forse visti anche gli ultimi risultati della Ternana non vi aspettavate un approccio così da parte delle fere? No, no, ma sapevamo che questo campionato di Serie B, lo sappiamo, è un campionato strano, ogni partita ha un senso diverso, quindi è giusto prendere tutte le partite con la mentalità giusta e andando a mangiare ogni pallone. Oggi non l'abbiamo fatto e si è visto. Senti, tu sei di queste parti, perché se non sbaglio sei di Spoleto, tra l'altro sei un ex rosso-verde, però c'è un rapporto un po' strano col pubblico del Liberati. Ma guarda, io come ho sempre dichiarato tutte le volte che sono venuto qua a giocare da ex, ho sempre detto che per me quei sei mesi mi sono serviti tanto a crescere, sicuramente non sono stati i sei mesi più belli che io ho fatto, però ho sempre messo il massimo impegno. Mi dispiace perché già dall'anno scorso ci sono stati degli insulti, ma ho visto che è successo anche con altri giocatori di quel gruppo là. Il calcio è anche questo. Io sicuramente porto i ricordi positivi che penso sia la cosa più importante. Però devo dire che dopo quei sei mesi in ogni squadra, in ogni stagione sei stato decisivo. Sì, no, no, ma come ho detto so che non ero quello là, so che potevo fare molto meglio. Capitano però le annate un po' così. Venivo da sei mesi dove avevo giocato poco a Pescara, qua avevo giocato un po' sì, un po' no, però purtroppo con rendimenti non altissimi. L'impegno sicuramente non è mai mancato, non fa parte di me, quindi io come ho detto prima porto i bei ricordi di quell'anno là e faccio sicuramente un grande in bocca al lupo alla Ternana. Ovviamente adesso sono un giocatore al Vicenza e penso solo al Vicenza.